un'altra tua grande passione è la musica come coniuga un fotografo come te il suono e l'immagine come si rappresenta la musica in immagine beh allora secondo me c'è una possibilità che ho avuto e che è stata quella del viaggio il viaggiare mi ha concesso riguardando le mie foto di vedere che la musica in realtà è una mia compagna continua in tante foto che io faccio ritrovo che c'è musica che c'è musica nel movimento delle persone per la strada che c'è musica semplicemente anche in un muro di tutto strappato con l'intonaco di velto ma c'è musica in molte situazioni che è una musica che mi piace definire spesso arriva dal cuore arriva dall'affetto delle cose con cui si fa una cosa e questa musicalità mi ha permesso dopo di lavorare con tanti musicisti quest'anno per esempio ora dovrò fare 7 8 performance tutte 7 8 con 7 8 musicisti diversi adesso il 26 giugno faccio una performance con danilo rea dedicata al mediterraneo quindi intervistato è stato un piacere che è un lavoro a cui tengo molto perché è un lavoro dedicato alla memoria ma la memoria è possibile in questo caso fotograficamente metterla in relazione al viaggio ma un viaggio che non è solo fisico è un viaggio anche onirico no non viaggio temporale quindi la la fotografia apre tutte queste porte ce le fa incontrare e quando si riesce a far questo in una performance è assolutamente meraviglioso c'è un elemento comune nella tua opera che io vedo è sicuramente tu me lo confermi che è il viaggio guardando le due opere mi vengono in mente scrittori come caposcinski che eccetto in questa necessità di andare e raccontare è un elemento che tu senti e come beh il viaggio si io amo anche altri autori uno su tutti i robert waltzer per esempio un autore svizzero che è stato per 30 anni manicomio ma è volutamente non è che era che era amato a un certo punto ha staccato la spina però continuava a viaggiare all'interno di un percorso in montagna e cioè poi ha fatto una fine proprio mentre camminava a un certo punto è morto sulla neve così come un altro autore che amo molto è joseph cornell che è un è un signore che faceva delle scatole ma soprattutto abitava a new york ha esposto al moma insomma e ha influenzato decine decine di artisti e lui era un raccoglitore seriale di tutto ma la cosa incredibile è che lui praticamente passeggiava sempre passeggiava e poi arrivava davanti a una vetrina e guarda caso trovava l'oggetto giusto per creare quella situazione in quella scatola e quindi era affascinante cioè dalla undicesima avenue finiva alla 42 e l'incrocio gli faceva apparire uno che buttava una lattina per terra la buttava in quel momento quando lui passava ma la lattina aveva una scritta rossa che lui già pensava che era una cosa che gli mancava e zac e la raccoglieva allora questa idea del viaggio no che un viaggio come dire diverso dal fatto che io arrivo in paesi fantastici dove incontrare altre altre culture diventa meraviglioso è un'idea che mi è molto cara e che cerco di inserire nelle mie performance che luce vedi nella calabria che foto ti ispira beh insomma c'è una luce mediterranea bellissima mediterraneo io lo amo follemente a parte che sono nato a catania e quindi io fino a 17 anni come dico ai miei amici fotografi che fanno tutti così dico io per 17 anni ho mangiato la granita tua sei stato in mezzo alla nebbia quindi non no e loro si arrabbiano un po qui c'è una luce meravigliosa e la luce della calabria è una luce che dà una energia importante no soprattutto anche in certe ore questa mattina semplicemente abbiamo girato per le stradine di schiavonea e senza cercare come dire delle cose incredibili però la luce ci ha dato la possibilità di fare degli incontri speciali